Ciao a tutti ragazzi di questo nuovo video, oggi siamo qui con Nitroglicerina per compiere un'impresa ovvero andare nei cavò, riprendere la sua arma mitica e vincere la partita dal momento in cui troveremo la sua arma mitica dovremo vincere, se poi perdiamo vabbè, niente, Nitroglicerina avrà fallito prima di iniziare è proprio iscrivetevi al canale, trattate la campanellina, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici ok ragazzi abbiamo la card, corriamo subito nel cavò fra spaccata la torretta ok ora, dobbiamo incrociare le dita, l'arco io non lo trovo da un sacco eh, sinceramente quindi l'ho giuato nelle scorse ore si, non me lo ricordo, vabbè, però era un po' di giorni fa, quindi non lo vedo ti provo, ti provo, ti provo, ti provo, ti provo, si no, no, eh sì, cosa sì eh, ancora l'ho visto di qua quindi ci uccidiamo, cioè ci facciamo fuori e ci riproviamo ok regà, ho ucciso il boss, devo solo entrare dentro e sperare che ci sia l'arco forse l'ho trovato, l'ho trovato? no, sì, 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 godo tra, corri giù, corri non riesco a farci un cuore scappa, corri giù se ci muori, se muori fuori, Fra, è un casino non ci muoio perché sono da una parte che non viene mai nessuno eh, però cerca di venire giù, possibilmente prendo subito l'arco qua chiudo arrivo da te, Fra eh, Fra, aiutami, devi venire non ho molto, eh, quindi l'arco regale è un'arma scandalosa, quindi ma dobbiamo vincere per forza, perché abbiamo solo questa partita stanno arrivando i bot, però mi sa che c'è anche gente io sto entrando quando stai arrivando dimmelo che ti apro in teoria così deve essere faccio così c'è la mitraiettamentica qua per te se vuoi perfetto devo dire proviamo l'arco una notizia parca vacca che schifo stanno arrivando molte persone ah, molte? almeno due team bello, madonna vabbè, solo da qua possono arrivare però fa un po' schifo sincero l'arco ma va? ma stanno venendo veramente? eh sì Fra, io ero sulla strada, eh ero su quelle su quel palazzetto ah dove ci sono mirato eccoli, non ci credo ok bastoni esplodete dai venite, unfami io non mi muovo da qui tanto, eh non avete capito e potete entrare solo da questo lato voi quindi dai venite a uno l'ho quasi chillato, eh ma tanto fra si sarà rifullato ovvio tre medichi, dio eh vabbè, ma andata lì devono arrivare, eh se vengono è qui no no, è un'arma sai che se non vengono arriva andata di qua? ma tu non c'hai chiuso là eh? non hai chiuso? come non, no eh ma Fra, ma come fanno ad entrare da là? eh oddio ok 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 sei un bosco e tra ma mi entrano adesso sono morto non li ho asfaltati a entrambi se ce la faccio sono troppo forte non ce la farò ma chi se le fa le bende una roba di principio non ci provo proprio no 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 non c'ho tempo qui si arriva da un momento all'altro mentre mi faccio il medico e ma hanno il vantaggio loro c'è in realtà io le cure no ma stanno entrando scarica l'arco fra che l'arco si è caricato ci metti tanto ma si è caricato fa male infatti sono morto sono morto solo che sono dietro forse dai uno è qui con me e l'altro pure ma evitare un premio ancora noi venite ancora venite ancora un altro buono dai la prossima volta venite con più player che magari ce la fate mi fai ne hai tirati due e hai da solo botta pedali dove sei te eh sono sopra il buco adesso ti chile la torretta no si però però guarda dove sei morto ma puoi morire qui così fra c'era era quel player a quelli lì si penso a te penso a te io non sono forte vabbè raga io adesso prendo una macchina a scappo e provo fra ti provo ad andare a curare che dire però non è una bella situazione sinceramente ributtiamo raga allora ho pochi colpi razzi cioè in realtà ho pochi colpi di tutto però l'arco ti posso dire che in realtà è anche carino solo che ci mette troppo a caricare il colpo quindi poi però per le altre due armi sono top quindi ce la posso fare fra adesso te prenditi cure armi prendi tutto no fra io adesso mi spiego dobbiamo scappare però di giallo ah si infatti c'è anche la 6 quindi ci dobbiamo anche muovere e velocemente anche perché sennò rimaniamo secchi porca vaca sono un pro player fra sono troppo forte con l'arco l'ho preso in testa c'è un altro là l'ho visto ma non lo vedo più fra il mio occhio non ci arriva fino a là ma niente io boom ma fra ma in testa fa 50 ma come è possibile scusami eh ma faccio 1 da per 2 fra 50 eh fa 100 non è che ma c'è il cielo che è diventato arancione così da un momento all'altro c'è gente fra fra sono 2 101 io farei una tecnica no fra l'ho missato fra le ho distrutte tutti fra c'è la spada laser poi sono pazzi ma fra si è morto veramente fra credevo non fosse così pazzo questo a buttarsi carmi cazzo verso di me che è un bomba legendario boom che bello quanto è bello essere così troppo veramente fortissimi troppo bello vieni con me vieni vieni ti porto via questo prende le armi te le prendi dopo le armi intanto non le voglio e ho fatto anche dei bidanni con l'arco eh quindi tanta roba vieni qui con me dobbiamo vincerla fra questa bisogna vincerla regà c'è gente ma mi hanno colto dalla sprovvista 100 con l'arco lei voglio chilarlo fermo non me lo rubare boom fra ma fa 25 ma com'è possibile ma è tutto per 2 fra comunque fa schifo però no fra ma va a cagare 25 di danno 50 di testa ogni tanto fa 100 ma secondo me in base a quanto tiri l'arco quanto tiri la freccia si ho capito ma manco fa così fra 25 di danno cioè se vado a piccone fa più danno tra un po' eh quindi non lo so vabbè e l'hanno ammazzata complimenti ma questi ne sanno eh si si ne sanno ne sanno almeno costruite morti non mi puoi però smentire sempre ovvio cioè nel senso ma cos'è che hai detto che non ho neanche sentito questi ne sanno no dopo vabbè oh il pino vanta bello però eh ma non me lo prendo mi tengo a lanciare il lancia ti provo a buttare fra però ti devi impegnare cioè veramente fra te la sto fra 9 kill e tu 0 fra ma lo stai tagliando si ma di brutto eh ma proprio ma in una maniera che fra cioè quando giocavo con mia cugina fra facevo così tanto solo io cioè fai schifo ma fra ma è il boss metti la carta dentro la cosa dentro la tesla ma ti sei spaventato si io vado a vedere dove sta la gente perché qui fra siamo nella giungla sinceramente un po' paura anzi no vini con me lascia stare la tesla per terra cioè nel senso vini con me sopra la torre la spacco anche non si sa mai magari c'è qualcuno sopra ma sei te con la zarete si complimenti che sei riuscito a cadere fra io adesso la gioco molto safe sono morta tre volte eh no ti conviene anche perché non ti curo più io eh ma dove sono i player fra anche perché ho le armi mie preferite no anche perché non ti rebutto quindi o ti muovi o vini con me andiamo proprio dentro dentro safe 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 io ho sentito spari non li vedo ma sento spari no ma sono tipo verso sta parte sono di là però non li vedo eh però fra siamo in sette due siamo noi due contro due contro uno contro uno contro uno o comunque qualcosa del genere che ci sono cinque team quindi in teoria è così tanti ci sono da soli eh quindi non farà ma la safe dall'altra parte dobbiamo tornare indietro vieni veloce veloce vieni con me posso usare a razzarire? vabbè usano basta che non schiatti addosso a me viene adesso penso veloce la safe a tanto quindi uno è morto ne è morto un altro è morto dalla tempesta questo alla fine che farei te no fra io io te lo giuro fra gioco una safe adesso rega muore cento per cento sono un cecchino mi fanno trecento ma io non li vedo fra non li vedo la giungla quanto è brutta ve lo giuro non ce la faccio mi stanno sparando fra mi sparano cento venticinque il muro infame si morto 2v2 no 2v1v1 fra se non vinciamo così cioè lasciate tutti un like perché se non lasciate cioè dovete lasciarlo tutti se gli lasciate tutti un bel mi piace vinciamo altrimenti perdiamo e purtroppo qualcuno farà una brutta fine e non è il sottoscritto quindi fate 2v2 lasciate like se volete che io che lui continua a vivere allora dimmi se li vedi almeno questo dimmi se li vedi lo vedo boom bravo morto ne manca uno l'ultimo lo voglio fare con l'arco l'ho visto fra è uno solo però bilda questo ne sa questo non ne sa non killarlo fermo in one shot vabbè complimenti fra complimenti un applauso però ce l'abbiamo fatta nizio glicerina porta a casa questa missione che tra l'altro era difficile perché non solo bisogna trovare l'arco ma l'arco è anche l'arma più difficile secondo me sinceramente 11 kill tanta roba iscrittimi al canale attivate la campanellina è veramente scandaloso lasciate quel mi piace condividete il video di tutto il vostro rincio non ci vi chiamo nel prossimo video bella